Martedì il Parlamento francese ha approvato una risoluzione per chiedere formalmente all'Unione Europea di inserire il gruppo paramilitare russo Wagner nella lista delle organizzazioni terroristiche. Questo consentirebbe di sanzionare più facilmente i membri della milizia e i loro sostenitori, soprattutto in termini finanziari. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha ringraziato l'Assemblea francese. Il gruppo è già riconosciuto come organizzazione criminale internazionale dall'Ucraina e dagli Stati Uniti, che negli ultimi mesi, seguiti dal Consiglio europeo, hanno imposto sanzioni alla rete di supporto mondiale della milizia. Dal 2022, invece, sono oggetto di sanzioni da parte di diversi paesi il fondatore Yevgeny Prigozin e i suoi familiari più stretti. Secondo il Times, anche il Regno Unito si starebbe preparando a dichiarare Wagner un gruppo terroristico.